Se l'azienda ospedaliera si dice pronta, con tutte le documentazioni necessarie in vista dell'incontro in Regione il prossimo 10 dicembre, anche il Comune sta lavorando sull'area di Padova Est. Il nuovo ospedale padovano dunque attende il prossimo appuntamento a Palazzo Balbi come uno spartiacque che potrebbe segnare l'inizio di un nuovo capitolo. Il sindaco Bitonci ha ribadito che il sito in zona San Lazzaro è parzialmente di proprietà dell'amministrazione comunale, mentre un'altra parte potrebbe essere acquisita a breve dal Comune. Per lo strumento urbanistico resta solo il lavoro della Regione. Lo strumento urbanistico può essere adottato dalla Regione e questa è anche la risposta che voglio dare, nel senso che il Comune di Padova ha cominciato l'iter per la modifica ovviamente del PATI e del PAT. Però la Regione con un proprio provvedimento, approvando l'accordo di programma con tutti quanti gli enti, che sia chiaro, la nome prevede, che fa variante. Quindi quando la Regione deciderà, adotterà lo strumento urbanistico per porre il polo ospedaliero proprio su Padova Est. Il 10 dicembre dunque potrebbe essere la data in cui Padova Est diventa a tutti gli effetti il nuovo sito dove potrebbe sorgere il nuovo ospedale. Muore l'ipotesi di Padova Ovest, che è quella delle precedenti amministrazioni. Ci sono ancora due ipotesi sul campo, che è l'ipotesi Allegri, aeroporto e l'ipotesi Padova Est. L'ipotesi Allegri è un'ipotesi, dal nostro punto di vista, non percorribile, perché c'è ancora un aeroporto, quindi aspettiamo le risposte che devono venire dagli enti competenti e poi non è una zona disponibile, mentre a Padova Est abbiamo una zona disponibile.